ciao a tutti ragazzi e ragazze brevissimo video per giustificare mi sembrava duopo la mia assenza lunga da youtube mi sembrava doverosa appunto nei confronti delle persone che comunque mi seguivano poche tante che fossero e ho avuto molti problemi in questo periodo anche economici familiari personali di tutto di più che mi hanno tenuto lontana da youtube e anche da altre cose in realtà non solo però diciamo che oltre a questo e al lavoro che mi ha portato via del tempo mi cominciavo a sentire un pochettino stretti i video concentrati solo sui profumi perché comunque sono una persona con molti interessi per cui cominciava appunto essere un po restrittivo per me però ho visto che tante persone mi hanno chiesto di tornare e avrebbero piacere di vedere i miei video è una cosa che mi ha fatto veramente veramente molto piacere vi ringrazio tutti e quindi penso che tornerò brevemente a fare video però pensavo di ampliare un attimino il raggio d'azione ora chi mi segue sa che io sono una truccatrice quindi in realtà potrei anche molto semplicemente allargare il discorso a makeup e skincare però preferirei non farlo perché ci sono tante persone su youtube che parlano di questo mi sentirei un po superflua non so come dire non apprezzo neanche tantissimo il tipo di community che c'è intorno al beauty attualmente quindi fatemi sapere nei commenti insomma se invece voi gradireste dei video a riguardo quindi makeup e skincare ma preferirei appunto non farlo mi piacerebbe invece continuare a parlarvi di profumi anche se ovviamente come potete immaginare avendo avuto un po difficoltà economiche non ho comprato tantissimi profumi in questo tempo però ovviamente ce ne sono di cui parlare appunto vorrei portare sempre contenuti sui profumi ma associati a qualcos'altro che mi interessa che potrebbero essere film serie tv libri opere d'arte in generale quindi ampliare ecco il respiro del canale fatemi sapere se vi farebbe piacere se potrebbe interessarvi questa cosa a me piacerebbe anche perché appunto mi sentirei un po più libera di parlare delle cose che mi piacciono oltre ai profumi di spaziare un po di più quindi pensavo appunto di potervi proporre dei video in cui associo un profumo a un'opera d'arte generica per quanto mi riguarda sono molto appassionata di film serie tv animazione e libri quindi potrei spaziare un po in questi campi tutto qui fatemi sapere se questa idea vi piace vi mando un bacione e grazie a tutti